Difficile, difficile commentare una prestazione così, difficile commentare una partita così, una di quelle partite che fanno anche un po' innerposire, una prestazione veramente brutta da parte dell'Inter, assolutamente bocciata, rimandata dopo l'exploit della rimonta nel derby ed è sembrato un po' di rivivere il primo tempo del derby per quanto riguarda la prestazione dell'Inter. Un inter troppo lenta, tanta manovra, tanti passaggi anche inutili, senza riuscire mai a sfondare, senza riuscire mai a trovare le punte, un centrocampo troppo timido, è sembrato come dicevamo di rivedere un po' l'Inter del derby, la prestazione del primo tempo del derby con la netta differenza fatta dall'avversario, quello che il Milan nel derby ha giocato per vincere, chiaramente, e aveva anche dominato facendo bene, il Napoli stasera invece ha completamente rinunciato a giocare la partita, si è chiuso dietro, ha fatto questa diga con tantissima densità e poi se c'era la possibilità di partire in contropiede partiva a 2000 e in molte hanno criticato questo atteggiamento del Napoli parlando di provincialismo, non sono molto d'accordo perché non è stata una bella partita, chiaramente il Napoli non ha di fatto giocato, però il Napoli in questo momento è in grandissima difficoltà, è sicuramente inferiore all'Inter anche dal punto di vista tecnico, almeno secondo me, e non aveva alternativa secondo me, doveva giocare questa partita in questo modo, abbiamo visto anche contro il Lecce nell'ultima partita come ha provato a sbilanciarsi, ha preso tre gol, ci sta, Gattuso sapeva che contro l'Inter bisognava giocare così perché lo abbiamo visto, l'Inter soffre quando le squadre si chiudono bene, non danno spazi e l'Inter sta andando in sofferenza se il Napoli aveva bisogno di ritrovare anche motivazioni e ha fatto questo gioco meritatamente, fa un po' inervosire, certo che questa squadra non prova neanche a giocarsela, però secondo me la grande colpa di questa prestazione, di questa sconfitta è dell'Inter che innanzitutto non ha ancora trovato delle controvisure a questo tipo di gioco, quando le squadre si chiudono o anche quando si mettono a specchio va in difficoltà e di partite così ne abbiamo viste tante e tante, lo stesso Lecce contro il Cagliari, tante, ce ne sono state tante, l'abbiamo visto, l'abbiamo detto più volte, ma soprattutto se non trovi le contromisure per riuscire a farmare la squadra così serve la prestazione dei giocatori di maggiore qualità e stasera i uomini di maggiore qualità invece si sono un po' nascosti, mi viene in mente innanzitutto la prestazione di Brozovic che ha corso tanto ma ha commesso anche tanti errori, è stato sì prezioso per andare a schermare soprattutto su Demme nella prima parte del primo tempo ma non ho fatto moltissimo, anzi è sbagliato parecchio secondo me, ma soprattutto mi vengono in mente le prestazioni di Sensi, di Barella, soprattutto Sensi ma anche Barella secondo me non sono stati positivi e poi ci mettiamo le fasce, Moses che è quello che secondo me stava facendo meglio, aveva fatto intravedere le cose più interessanti, non è stato praticamente più cercato, tutto sbilanciato sulla corsia di Biraghi, il fatto che venga lasciato spesso sulla taglia di avversari mi fa pensare e anche stasera è un'altra prestazione insufficiente di Biraghi, davanti Lukaku e Lautaro Martinez, Lukaku forse un po' stanco ma comunque è marcato molto bene, molto stretto, Lautaro Martinez l'abbiamo visto quando ha la possibilità di sfocarsi anche in velocità, è un giocatore di un'altra categoria e crea pericoli, il problema è che non sono stati praticamente mai serviti e poi Lautaro ha subito anche una quantità di falli enorme, qui anche ci sarebbe da aprire un altro discorso sulla direzione arbitrale, ma non vorrei entrarci, vorrei invece entrare nella discussione delle pagelle, vi vado a leggere le nostre pagelle curate da Antonio Siracusano su PassioneInter.com, partiamo da Padelli che prende 6 questa volta dopo la bocciatura del derby, è stata una prestazione con qualche piccola incertezza, però sul gol di fatto non ha colpe, in più però ha anche effettuato un bel salvataggio in chiusura di primo tempo, quindi il 6 è meritato questa sera. Non arriva alla sufficienza invece Minas Griniar, poco propositivo, è stato saltato spesso anche con eccessiva facilità da Elmas, poi il cartellino giallo ha convinto Conte a sostituirlo, al suo posto è entrato D'Ambrosio che prende 6 e ha dato una certa vivacità proponendosi anche in avanti, oltre a tenere bene in difesa. Stesso voto per Defrae che quindi prende 6, stasera secondo me va sottolineato un piccolo passo indietro rispetto al derby in cui era stato strepitoso e qualche errore di troppo anche nel possesso palla. Bastoni lo stesso prende 6, prestazione comunque abbiamo detto l'Inter non è stata praticamente mai attaccata, ha dovuto fare l'ordinaria amministrazione e qualche passaggio sbagliato di troppo per lui. Moses lo stesso prende 6, ha fatto intravedere delle cose positive all'inizio come vi dicevo, ma poi praticamente non è stato più cercato, quindi 6 anche per lui. Sanchez 5 e mezzo perché spreca anche una buona occasione che ha avuto nel finale. Sanchez è subentrato chiaramente al 74esimo a Moses. Barella come dicevamo tra i peggiori secondo le nostre pagelle, anche secondo me prende 5, ci si aspettava più qualità e soprattutto più responsabilità, che si prendesse più responsabilità. Brozovic prende 6, è quello che fa un po' di più in effetti tra tutti i centrocampisti, anche se non è una grande prestazione secondo me. E Sensi 5, lo abbiamo detto spesso, dopo l'infortunio non è ancora tornato il vero Stefano Sensi, che speriamo torni presto. Eriksen nelle nostre pagelle è subentrato al 66esimo, prende 6 e mezzo, ha fatto quel che poteva, si è fatto vedere tanto, ha preso tanti palloni, ha provato anche un paio di conclusioni, una è andata anche vicino, vicinissimo, anzi alla porta, e almeno ha avuto il merito di accendere un po' la luce. Biraghi prende 5, io non ricordo prestazioni, tanto timido, molto timido Biraghi, questo secondo me è l'aggettivo più giusto, tante giocate all'indietro, invece su quella fascia, soprattutto dopo l'arrivo di Ashley Young, per giocare se vi la qualcosa in più. Lautaro prende 6, giustamente perché non ha avuto tanti palloni, ha provato a fare il possibile, cercando di sbattersi per la squadra, e Lukaku invece prende 5,5, prestazione una sua condizionata, un po' da questo atteggiamento molto difensivo da parte del Napoli, condizionata secondo me anche da un po' di stanchezza accumulata, da questo giocatore che sta giocando praticamente tutte le partite, queste erano le pagelle di Antonio Siracusano, vi lascio il link anche in descrizione, così potete rileggerle con calma, e potete commentare, lasciateci un commento, mi fate sapere se siete d'accordo con i nostri voti e con la nostra analisi, vorrei ricordarvi che sul sito passioninter.com e sul nostro canale telegram di passioninter.com potete votare il migliore in campo di questa partita, non è che ci sia una prestazione che emerge più di tanti altri, però potete votare il migliore in campo, e poi a fine stagione andremo ad eleggere l'MVP stagionale dell'Inter.comunque, fatta tutta questa analisi, vorrei chiarire che non è tutto perso, adesso anche sul nostro gruppo Telegram sto vedendo tanti commenti negativi, sui social chiaramente ci sta dopo una sconfitta, sappiamo la mano sul telefono parte velocemente, però non è tutto perso, un 1-0 è un risultato che soprattutto contro questo Napoli, secondo me si può ribaltare, serve sicuramente un'altra Inter, serve un Inter più da secondo tempo del derby, rispetto a quella che abbiamo visto stasera, che come dicevamo era più vicina a quella del primo tempo. Comunque, siamo fiduciosi, speriamo di recuperare gli ultimi infortunati, oggi alla lista degli infortunati si è aggiunto anche Sebastiano Esposito per un problema muscolare, ne sapremo di più nelle prossime ore, vi interremo aggiornati su PassioneInter.com per non perdervi neanche una notizia, vi ricordo di iscrivervi al nostro canale, attivate la campanella per non perdervi neanche un nostro video, domani, giovedì, per chi ci ascolterà dopo la mezzanotte, giovedì come sempre andrà in onda il nostro podcast il giorno post partita per commentare la partita, analizzare in maniera più approfondita pro e contro e tutti i vari dettagli di questa partita e poi ci proietteremo invece alla prossima super sfida perché domenica sera si gioca una partita molto delicata contro la Lazio all'Olimpico e chissà, magari questa sconfitta di stasera servirà anche un po' per tirar fuori qualcosina in più contro la Lazio e servirà qualcosina in più sicuramente. Grazie per essere stati con noi, ci risentiamo domani con il podcast e l'appuntamento poi al prossimo video in vista di Lazio Inter. Sempre Forza Inter!